Pronto? Dimmi il peso, quant'è? A quanto sei, dimmi! Sto arrivando! Arriva! Ho una sorpresa per te! 65 kg, pari! Sì! Domani sera sarai morto! Ti spazzerò via come una tsunami! Colpisci ancora! Ha vinto! Drake! Con una fusione spinale, ti garantisco che tornerai a camminare. Io tornerò a combattere. Vinmi. Con questo tipo di trauma, qualsiasi movimento e la tua spina dorsale si spezza. Sono stufo che la gente mi parli come se fossi morto. Io combatterò ancora. No, non è vero. Vinmi, no! Proprio non ce la fai a mollare. Saprei mollare come. Sai cosa mi spaventa? Che sarebbe facile. Non posso essere presente. Mentre ti fai del male, non più. Non sono finito. C'è ancora molto in me. Fammi vedere quello che sai fare. Fammi vedere come vivi. Come combatti. Fammi vedere chi sei. Oh no!